e siamo ritornati insieme qui come sempre nel nostro studio ad angoli vi ricordo ancora una volta la nostra mail scrivete ad angoli chiocciola espansione tv punto it per restare sempre in contatto con la nostra redazione e io sto già sfogliando questo preziosissimo preziosissimo testo che ci ha portato lei questa ospite meravigliosa che io adoro lo dico subito così non ci sono dubbi è qui con noi daniela manili pessina ciao daniela carissima che bello ritrovarti ciao a tutti grazie dolores di avermi invitato mi esordisci sempre con un sacco di complimenti e ce ne sono ancora perché io non t'ho lasciato mai durante l'estate perché ho seguito veramente sì veramente sulla tua pagina facebook delle foto meravigliose che tu hai regalato a tutti quanti e che davvero sono sono davvero un regalo per il cuore e per questo io ti presento certo come fotografa come architetto tutto quello che ti pare ma soprattutto come creativa e visionaria perché tu fai delle cose davvero che fanno pensare anche ad altri mondi lo fai raccontando il territorio si grazie insomma come ho scritto anche nel libro nella presentazione la mia idea di creatività è semplicemente l'idea di connettere di collegare e quindi penso anche che ci vogliano sicuramente dei riferimenti per poter inventare e più che inventare perché è tutto un lavoro anche di come dire scoperta e riscoperta nell'ambito creativo e di connessioni penso che insomma si possa stimolare la creatività quindi mi piace non solo praticarla ma possibilmente anche diffonderla nel libro ma anche nelle altre tante attività che sono riuscita un po' a portare avanti quest'anno alcune un po' inventate da me c'è proprio questa questa voglia di lanciare un po' dei sassi nello stagno e sai che mi piace l'acqua no quindi e poi questo effetto di propagazione di questi sassi fa in modo che poi tornino anche delle altre immagini che non sono solo le mie ma sono anche quelle di persone che mi seguono e che rilanciano un po' anche dei temi e questo è molto bello è un andare e tornare di emozioni e tutto questo ma molto altro ancora è raccolto proprio in questo visiolario del lago di Como guida turistica inedita per creativi eccola qua la mostriamo entrambe vediamo chi ci coglie e questa è davvero è davvero una guida molto interessante perché allora diciamo che il lavoro fotografico di circa due anni e mezzo quasi tre quindi ci sono delle immagini recentissime alcune ad esempio di fiori di parchi che sono di questa primavera quindi proprio recentissime le hortense di villa del grumello e anche alcune fioriture di rododendri di villa carlotta ed è un lavoro durato tre anni perché sono i tre anni nei quali comunque ho percorso il territorio e ho raccontato con le mie foto più che non solo con le foto ma anche con le elaborazioni con i giochi grafici e con un po' di fantasia i luoghi che andavo a visitare dall'interno quindi non sono foto cioè le guide di solito sono guide nella maggior parte dei casi nelle quali c'è chi scrive i testi chi fa gli approfondimenti chi decide anche i luoghi da raccontare quindi c'è una sorta di regia poi c'è il fotografo ufficiale prestigioso che va e immortalano diciamo l'idea che sta qui dietro è connettere la visione piccola dei dettagli sia come immagini che come testi con una logica di visual storytelling cioè con l'idea di raccontare delle piccole storie del territorio è anche una modalità davvero per solleticare la curiosità questa sì assolutamente parecchio sei d'accordo? c'è anche questo nel tuo pensiero? c'è perché secondo me visitare turisticamente un luogo non significa soltanto andare a vedere quello che vedono tutti ma se veramente vogliamo portare a casa qualcosa che non sia solo un gadget o un ricordo di un viaggio l'ideale sarebbe farlo nostro quindi specchiarci in quello che andiamo a visitare e trovare qualcosa che troviamo interessante per noi quindi le guide classiche tra virgolette sono sicuramente utili e più complete certamente importano tutti i luoghi poi c'è tutta una fioritura in ambito anche proprio editoriale di nuove guide del lago di Como ne sono nate tantissime mi fregio di poter dire guida inedita guida creativa perché l'idea è proprio molto personale e come tale può essere apprezzata o meno però è sicuramente originale è originale e soprattutto questo è quello che mi torna indietro dalla proposta ecco che comunque è una cosa nuova una nuova modalità una nuova prende per mano i visitatori in maniera differente a tal proposito Daniela ricordiamoci sono due appuntamenti uno è davvero alle porte quando e dove? allora la guida è stata presentata alla fiera del libro quest'estate devo dire che c'è stato un bel gruppo di subito una bella risposta una bella risposta avevo pensato però che nelle varie presentazioni che avrei avuto piacere di fare in luoghi che ritengo interessanti e che sono anche in molti casi anche nella guida stessa che cambiare la modalità di presentazione del libro e quindi di volta in volta far emergere un aspetto poteva essere un modo interessante per presentarlo e quindi a parte la presentazione tra virgolette classica che poi è stata la prima perché la guida è stata stampata a luglio di quest'anno quindi è stata presentata ad agosto quindi proprio nuova nuova l'altra idea che mi era venuta siccome io mi muovo tantissimo a Como per i vari progetti e sono spesso a Como però in realtà abito a Cantù e quindi Como è sempre stata la mia meta anche quando ero molto giovane cioè dove si va si va a Como si va a Como eccetera però a Cantù c'è una piccola libreria che si chiama Spazio Libri La Cornice che non è una libreria classica ma è anche una libreria che fa piccole mostre di quadri, di opere è una libreria è un luogo dove accadono delle cose esatto dove accadono delle cose dove i due librai che sono Valentina Pellizzoni e Tommaso Falzone sono proprio appassionati del loro lavoro di consigliare i libri per bambini eccetera e quindi ho pensato che fosse un luogo perfetto non solo per presentare la guida ma per far uscire dalla guida alcune immagini quelle che si prestavano di più a diventare tra virgolette quadri e quindi l'ho chiamata visualario in cornice e quindi non ci sarà solo la presentazione della guida che sarà questo sabato alle 18 quindi lo ricordiamo sabato 21 settembre alle 18 in questo spazio spazio libri la cornice in via ospedale proprio con l'ospedale di fronte è una piccola libreria molto gustosa che c'è in un angolo ma con anche quadri c'è fatto venire voglia di essere lì ma non è tutto perché poi invece ci sarà un appuntamento questa volta invece a Como dove e quando anche lì ci tenevo proprio molto in maniera proprio particolarissima perché sarà il museo della seta di Como e mentre ah non ho detto una cosa importantissima guai ricordiamola torno indietro solo un passo che alla cornice ci sarà Anna Veronelli a farmi delle domande la nostra amica Anna Veronelli che salutiamo Anna ti aspettiamo naturalmente siamo qui ripartito angoli non puoi non esserci esatto quindi lo dicevo orgogliosamente perché anche lì lei è stata molto carina e mi presenterà lei quindi sono anche molto curiosa di vedere che impressione farà la Como ritratta insomma ai suoi occhi quindi che domani mi farà e cosa succederà questo lo dicevo perché invece nella successiva presentazione che sarà il museo della seta di Como il 10 ottobre alle 18 in una delle classiche conversazioni del museo della seta invece ci sarà Fulvio Alvisi che è designer creativo insomma c'è un curriculum da svoderare anche lì enorme quindi io sono solo in grande imbarazzo rispetto a tutte queste situazioni a farmi delle domande e lì faremo immergere invece al museo della seta le connessioni perché alcune di queste immagini chi le ha potute vedere le ha lette come delle immagini comunque che avevano anche del tessile che erano collegate anche a sono fotografie ma che c'entrano con una sensibilità legata ai tessuti quindi una delle eccellenze del Comasco che tu hai voluto richiamare celebrare insomma quindi ci sta perfettamente anche questa location che vada ad ospitare quello che tu stai raccontando quindi tantissime sono le emozioni anche mentre le racconti assolutamente quello lo sai che mi emoziono lo so come battuta conclusiva perché siamo ormai quasi ai saluti la cultura del bello ma del bello che c'è dentro di noi e che tu poi sai trasferire con un occhio sempre attento a delle immagini ma soprattutto a delle inquadrature che sono particolari che sono uniche quanto è importante? Secondo me è fondamentale perché è un po' la guida di tutta quella che può essere una ricerca soprattutto in ambito di promozione del territorio di promozione dei luoghi secondo me gli aspetti io non dico che questi occhiali visuali insomma quindi è una guida di sperimentazione anche si possono indossare tutti i giorni perché poi ci sono anche le cose che non funzionano e le vedo anch'io però nelle mie corde c'è più provare a raccontare forse perché sono una persona così ottimista positiva di natura raccontare le cose belle che ci sono poi quelle meno belle o la critica o la diciamo la polemica intendo in senso costruttivo eccetera appattina ad altri e insomma e tu sai vedere sempre il bello e lo raccogli in questi bellissimi testi lo ricordo Visiolario del Lago di Como una guida turistica inedita per creativi che tra l'altro è stata tradotta anche in inglese se non sbaglio sì sì esatto il traduttore è impazzito è impazzito nel senso che è stato proprio anche lì una bella collaborazione perché mi spiegava che alcuni termini tipo il termine ortenzia nell'inglese il nome ortenzia il nome proprio ma anche il nome del fiore tradotto idrangea idrangea comunque ha più senso quindi mi ha fatto modificare alcuni capitoli quindi ci sono delle leggeri differenze perché si è chiesto per ogni testo soprattutto dove c'era un gioco un'idea dietro se avesse senso tradurlo in maniera letterale quindi è stato un bel lavoro anche quello un grande arricchimento questo è ancora di più lanciamo flash al volo perché abbiamo 5 secondi i due appuntamenti vai ok allora il primo appuntamento è questo sabato alle 18 allo spazio libri la cornice con Anna Veronelli a Cantù e il secondo appuntamento è al museo della setta di Cuomo il 10 di ottobre alle 18 con Fulvio Alvisi tutte e due sono gratuiti bisogna solo scrivere una mail ai due al museo della setta o alla cornice per sapere quante persone per dire ci siamo veniamo lì benissimo e con questo saluto Daniela Manili Pessina per essere qui ad Angoli per essere un'amica per essere generosa e condividere con noi delle foto meravigliose torni? certo certo bene grazie grazie per essere stati con me tra poco l'informazione perfetto grazie a tutti